Oroscopo del giorno, mercoledì, 4 aprile, 2018. Ariete. Lavoro, è un periodo favorevole per i progetti coraggiosi ma concreti. Evitare di cadere in investimenti infruttuosi. Toro. In questo momento avete vicino. Ottimo periodo per un'analisi interiore. Per i singoli è tempo di cercare l'amore, ma con calma e senza fretta alcuna. Lavoro, le responsabilità aumentano e voi vi sentite sempre più obbligati a fare del vostro meglio per piacere ai capi. Gemelli. Amore, inizio giornata rocambolesco, tra contrattempi e imprevisti ari riuscirete a non far saltare un impegno con la persona amata. L'intesa è buona e ne sarete contenti. Buona giornata per i single per fare delle scelte, il cielo amoroso è pieno di sorprese. Lavoro, un po' di pazienza in più vi occorrerà per risolvere qualche problema, ma i colleghi vi ringrazieranno. Cancro. Amore, rimandate qualche piccola discussione col partner ad un momento più favorevole, magari potreste vedere le cose da un altro punto di vista. Se siete single non riuscirete ad essere liberi dai pensieri come vorreste, un cruccio d'amore vi tormenta. Lavoro, siate più comprensivi con chi non riesce a starvi al passo, voi siete più avvantaggiati grazie al vostro infallibile intuito. Leone. Amore, la giornata procederà senza intoppi e l'amore sembra regalarvi qualche soddisfazione. Una sorpresa in serata vi sorprenderà, lasciatevi andare. I single non faticheranno a trovare la compagnia giusta per divertirsi e avranno tante occasioni per vivere nuove avventure. Lavoro, riflettete su alcuni progetti che volete portare avanti e verificate quali sono i più appropriati per trarne vantaggio. Virgine. Amore, alcuni contrasti riaffiorano nel rapporto di coppia. Le vostre polemiche nei confronti del partner avranno però poca durata, in realtà non desiderate altro che gettarvi tra le sue braccia. I single saranno poco concentrati, dovranno sforzarsi per andare d'accordo con tutti. Lavoro, siate più accomodanti verso i colleghi e chi vi circonda, solo così potete trovare un giusto equilibrio. Bilancia. Amore, giornata ideale per risolvere i problemi d'amore. Potrete infatti recuperare una storia che si era inclinata grazie all'influsso di venere che domina nel segno. I single dovranno ascoltare la voce del cuore che li spinge verso una persona, forse è il momento di farsi avanti. Lavoro, buona l'attività lavorativa, le vostre intuizioni oggi vi porteranno lontano e vi faranno apprezzare dai superiori. Scorpione. Amore, una voglia di cambiamento nella sfera sentimentale vi porterà a prendere una decisione inaspettata. Non saprete reprimere la rabbia per un torto subito, ma pretendete di essere giustificati. I single saranno animati da fervida passione e intratterranno nuovi incontri. Lavoro, sarete motivati nel lavoro ma state allerta, qualcuno potrebbe soffiarvi le occasioni sotto mano. Sagittario. Amore, i problemi sentimentali che credevate risolti emergeranno e non vi daranno tregua. Se tenete alla persona amata cercate di stabilizzare il rapporto. I single potranno approfittare di una pausa per riflettere su un'intesa nata da poco e decidere cosa fare. Capricorno. Lavoro, con mercurio dalla vostra parte svolgerete tutto con grande entusiasmo. L'intuito e l'intelligenza vi accompagnano. Capricorno. Capricorno. Acquario. Amore, la buona posizione della luna risveglierà in voi dolci desideri che vi faranno apprezzare le gioie della vita sentimentale. Possibile qualche piccolo malinteso con il partner. Oggi possono esserci delle buone occasioni per i single di trovare la persona giusta. Capricorno. Lavoro, quadro astrale favorevole per qualsiasi attività, soprattutto quelle legate alla vendita. In arrivo anche nuove prospettive di lavoro. Capricorno. Pesci. Amore, una bella sorpresa in amore illuminerà questa giornata. Un sentimento che sembrava quasi dimenticato riaffiora prepotente e vi trascina in nuove emozioni. Gli amici single potranno vivere ore fantastiche in compagnia delle persone giuste. Lavoro, siate prudenti nelle scelte e non impontatevi su questioni poco importanti. Oltre agli aspetti formali, tenete conto anche dei rapporti umani. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie. 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 Grazie.